E' partita la mandria dei bufali, sono 30 e arriveranno in 5 Sono le fasi ancora interlocutore, ma vanno a fare la convinta, sono belli spazi, molto spettacolari in queste gare, così partecipate Suona già la campana e al prossimo passaggio, eliminazione di meno 47 Buon, ottimo! 1,14 prima volta Occhio! 280 eliminato, 282 ottimi Tobia, anche Tobia 1,14 prima munizione Mettere la campana Tobia Tobia, percogliate l'attivamento del mezzo fa Aspetta, grazie Eliminazione di meno 45 205 205 205 Gaudenzio, Dondo, sono troppo eliminato subito Vado lì 142 142 Entra in sfida Tobia, Mettor 142 142 Entra in sfida E' eliminazione di meno 43 140 1,143 Appena poschiamo, andiamo avanti Raianna Borges 1,144 1,04 Seconda munizione Entra in sfida 1,04 Capri, dobbiamo andare avanti Di真的 Davide Gentili Lavorati Verri Vvä Eliminazione di meno 41 Il numero 10 Martian Later Levi la vita Tranquillo Tranquillo 1.027 per l'ammolizione, first warning, 1 voto, Mattia fermati, grazie, siamo già pronti per la eliminazione di meno 39. Numero 263, eliminato per la scorretezza, 273, Thomas Proverbio, fermarsi, 273, Thomas Proverbio, fermarsi, eliminato per la scorretezza, grazie. Occhio che è brutto lì! Elimitazione di meno 37, eliminazione in corso, eliminazione. 202, 2 secondi, Campbell scende vai. Numero 8, prima ammunizione. Numero 3, prima ammunizione. Numero 7, Campbell procede di Granlena, costa 10.000. Minero 7, second warning. Eliminazione di meno 35, eliminazione. 94, Paolo di Giampaolo, 94, Paolo di Giampaolo fermarsi, grazie, 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 Paolo. No. Le ha d'amma di Mioca che guida il Grus Roma. Uno 23, prima ammunizione. E siamo già pronti per l'eliminazione di meno 33. Uno meno 103, prima ammunizione. Eliminazione di meno 33, eliminazione. 20 23 stocco per parti grazie ottimo che ha aumentato la natura in questo momento ma siamo già a meno 31 al passaggio eliminazione di meno 31 lo so infatti vedi che mi sono messa in questa maniera anche tu eh 213 213 Michele Rizzo grazie Michele entra il Morelli davanti sono due o tre giri qui si è messo di buona di buona lena il 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 quando siamo già eliminazione di meno 29 eliminazione 5 non ero 5 eliminato 5 Alex Michele grazie Alex buona la campana e al prossimo passaggio siamo a non saremo ad una nuova eliminazione quella di meno 27 quando rendo a tempo è Luca Sibiglia a guida vincolo questo metto sopra l'avanzato dalla squadra francese l'eliminazione di meno 27 buono 3 3 eliminato numero 12 prima munizione numero 12 vedi come ha seguito come dice vedi come si sposta più di più sì 113 113 quindi ti fai portare non stai girando arti ora le proprone guida il ruffolo ora paio di giri eliminazione meno 25 occhio lì ora quando fai connessione 18 numero 18 eliminato Alcando Baezza numero 130 con la munizione e 30 fila numero 130 dentro buono ci vede che giri eliminazione 1024 numero 103 squalificato numero 103 terza munizione squalificato grazie Filippo Toccavini si è fermato l'aria munizione che significa? e salta all'eliminazione ottima eliminazione rilassato l'eliminazione di meno che il primo salta quindi non eliminesce non c'è eliminazione non eliminisce non eliminazione va bene recupera ispira numero 19 7 numero 7 Fabio eliminato e siamo in tassi negli ultimi due chilometri 98 seconda con la munizione di 98 eliminazione di meno di meno 9 e adesso la gara è entrata nel vivo 34 l'ha eliminato in certo congresso titola Morelli una bella gara per lui ha girato tantissimo e adesso siamo agli ultimi 8 giri suona la campana e poi eliminazione seguilo muovi questo abbraccio di meno esistente ammiano galliato da due o tre giri sta dando tutto per evitare l'eliminazione prova anche per via esterne si chiama il gruppo attenzione pericolo pericolo 98 ha eliminato 9 8 98 gamogliele si chiama e ormai sono tutti nomi che frequentano le finali dei campionati italiani da diverse stagioni mancano 6 giri è suonata la campana numero 8 secondo numero 8 di Paola ultimo chilometro è l'eliminazione di meno 5 39 numero 39 Damiano Gagliasso non ce l'ha fatta stavolta ma una bella gara per il figlio nipote d'arte quando suona la campana di meno 4 e poi caccavano 3 eliminazioni a meno 3 meno 2 meno 1 1 massimo 8 lavorate infatti sarà 5 ancora più spettacolare in questo frangente eliminazione di meno 3 mancano 3 giri 105 Francesco Frigo deve lottare Giù Felix per evitare l'eliminazione quando mancano due giri 400 metri alla fine è partito Leonardo Bossi è partito Leonardo Bossi sulla campana ultimo giro 113 l'ultima l'eliminazione è ancora la testa l'eliminazione Leonardo Leonardo l'eliminazione l'eliminazione Leonardo L'eliminazione Leo Bossi Leonardo Bossi seconda posizione è per l'eliminazione Arto E' l'eliminazione